Prossimo livello Mentre il guerriero si allenava, una forza oscura cresceva nel profondo della prigione di Chorgon, fino a quando non fu liberata. Quando Tai Lung ebbe notizia che il guerriero dragone era stato scelto, si infuriò, sapeva che era tempo di evadere e prendere ciò che era suo, la pergamena del dragone. Ma prima voleva mandare un messaggio a Shifu. Ovvero? Il preseng, loca di palazzo, volava verso casa per avvisare maestro Shifu della fuga di Tai Lung. Una tempesta oscura lo circondò. Tai Lung sarebbe tornato e avrebbe deciso del destino della Valle della Pace. Ottimo. Quindi usiamo Po, usiamo Tai Lung in questa zona. Credo che useremo ancora Po nel suo allenamento. Difendi il palazzo. Sì, useremo ancora Po. Ho una fame abominemole. Non abbiamo catturato nessuno per giorni. Sembra che il vento giri a nostro favore. Giovinastri, aiuto! Giovinastri! Chi è? Cos'è? Tutto bene? Ah, è la gru, ok. Mi hanno... Quegli screnzati mi hanno sollevato! Deve? Devo parlare con maestro Shifu al palazzo! Vabbè, calma, ho capito. Prossima fermata è il palazzo di Giada. Vabbè, ma con che calma me lo dici? Scusa fino al palazzo. Vola a sinistra, destra, su e giù per evitare nuvole o vortici. Usa l'attacco veloce per sconfiggere gli avvoltoi. Ok, capo. Sconfiggi tutti gli... E i 18 avvoltoi. No, i cosi invertiti no, però. I cosi invertiti no, ti prego. Durante il volo ti prego no. No, e che palle! Ma chi la... Eh, la madonna, ma... Ok, mi sa che in volo non conta l'asse X o Y, se ce l'hai o meno. Sì, 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 grazie. Mi sa che mentre sei in volo non conta. Conta solo sulla telecamera. Dannazione. Ok. Ma dai, ma... Come dovevo evitarlo quello, scusami? Ma... Non capisco, ti giuro. Non capisco se sono io e... O i fulni c'è qualcosa che devo evitare e non l'ho capito. Non li sconfiggeremo mai, 18, vero? Secondo me arriviamo a fine livello che non li abbiamo... Mi sento stupido io, ma ti giuro, non riesco a capire... Se... Se sto... Le sto prendendo io sti fulmini o se... Dio mio, la tele... Quanto odio i controlli invertiti! Ti giuro, non capisco se è colpa mia o no. E che palle! Vedi! Scusami, come cacchio devo evitarli? Non capisco! Sono scemo io, è colpa mia! Cosa devo fare? Cosa devo fare in sta zona? Non capisco! Già incontrò gli invertiti che mi stanno... Dannando l'anima! Vedi, non capisco! Sono stupido, forse? Sono stupido! Io e il gioco che non ti spiega cosa devi fare per evitarli sti cosi! E che cacchio! Vedi! Io sto facendo... Io mi sto muovendo normalmente! Cosa cazzo devo fare io per evitarli? Devo fare lo scudo! No, adesso devo guardare una guida su YouTube per capire cosa devo fare! Persino la guida su YouTube che ho guardato... Va a culo! Va a culo! Non c'è... Un vero metodo per... Schivare... Quei colpi... Deve andare solo di fortuna? Che riesce a sopravvivere abbastanza a lungo! Ok, siamo sopravvissuti! Maestro... Shifu... Ho delle novità... Tailung è libero! Evaso da Chorgom! Sto venendo qui! Vuole la pergamena del dragone! Tailung ci metterà un po' ad arrivare qui! Dobbiamo occuparci tutti del villaggio! Ah, ok ragazzi, perfetto! Solo fatemi prendere uno snack per poter concentrare il... Oh no, ce l'ho chiuso fu dentro! Bene! Allora penso che ci sentiremo quando tornate! Ok? Io vado a fare merenda! C'è la finestra rotta lì! Ah! Intruso! Intruso! Porco, porco, porco! No, non tu! Sembrava stesse per bestemminare! Usa le lampade soffio del drago! Aha! Porco, porco, porco! Non posso lasciare che i ladri sottraggano i tesori del palazzo! Fallirò se riusciranno a rubarli tutti e dodici! Ok! Aspetta, aspetta, aspetta! Ma non li vedo! Vieni qui! Colpisci i tasti a forma di drago! Sì, 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 sì! Perfetto! Perfetto! Ma mi sa che questa ondata sono solo loro che attaccano! Non ho capito! Aspetta, cos'è che devo fare? Eccolo! Che in tutto questo io non ho ancora capito se sto andando bene o male! Ehi! Ma no! È scappato! Oh, cavolo! Ma vai via! Non sono sicuro se sto andando bene o meno! Dove? Dove? Dove devo andare? Cioè, so dov'è l'Ovest, ma... Ah! Aspetta, aspetta! Allora, dammi un secondo! Intendevo! Dove era la stanza Ovest, volevo capire! Ma i tesori sono tutti in salvo? Sì, perfetto! Ok! Quanti soldi? Arrivo subito! Vieni qui! Intrusi nella stanza Ovest! Sì, sì, sì! È morto? Ora è morto! Aspetta! Perfetto! Aspetta! Un po', po', po' Un secondo! Sì, chi se ne frega! Dai! Ecco qua! Andato! Dammi soldi! Perfetto! E ora torniamo di là! Non prima, però, di vedere quanti soldi abbiamo per i miglioramenti! 87! Facciamo questo! Perfetto che è sicuro! No! Facciamone uno solo e uno di questo! Proseguiamo! Ma... Ma vai via! Ecco qua! Ma... 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 Ecco fatto! Ok! Perfetto! Eccone altri! Vieni qui! Da dove sei arrivato, tu? Vieni qui, maledetto! Ehi! Dov'è? No! Ce ne hanno rubato uno! Ma che palle! Rissa il bacon! Vieni qui! Dai! Ma com'è fatto a non colpirlo? Dai! Vieni! Colpito in pieno! Che palle! Dai! Eravamo andati benissimo! Che nervoso che me ne hanno tolto solo uno! Pazzia degli zoccoli! Ecco qua! Ma più che altro che cadono continuamente soldi da... Da qua! Mi sa che se rimani qua fermo tipo è... Una farm di soldi! Allora dammi un secondo perché a questo punto... No! Non questa! L'attacco caricato! 50! No! Aumenta solo il danno e il rinculo! Vabbè io volevo aumentare la distanza! Prendiamolo dai! Così almeno... Se li sconfiggiamo con un colpo solo... Anche se non caricato al massimo! E basta un po'! Ecco fatto! Mallevati! Vieni qui! Colpo caricato! Ecco fatto! Intrusi nella stanza est! Chiudi le aperture sul soffitto saltando sui tamburi e toccandole! Arrivo subito! Che palla aver perso un solo vaso però! Dannazione! Che palle! Intrusi! Sì sì sì! L'hai appena detto! Stai zitto! Ecco fatto! Ma... Ho visto la moneta verde io! Ehi basta un po'! Ecco qua! Fatto! Muori maiale! Aia! Ecco fatto! Le monete sono andate? Vabbè non importa! Mi urta aver perso... Solo quel... Quel vaso però! Mallevatevi! Ecco fatto! No! E che palle! Ecco qua! Ma che palle! Che non fa... Che non lo fa abbastanza lontano quel colpo! Vieni qui! Eh mio 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 mio! Vieni! No! Prendere e... Tornare qui! No! Sì! L'ho preso all'ultimo! Maledetto! C'è qualcun altro? C'è qualcun altro? Visto! Prende e scappare dove? Dove sei? Stanno scappando! No! Ma come tre? Come me ne hanno portati via due in un colpo? Scommento che non hai mai visto lo stile panda! Eh non l'ha visto mai nessuno po' Pure! Uno spadone gigante! Da dove è uscito? Uno spadone gigante! Uno spadone gigante! Uno spadone gigante! Uno spadone gigante! Come osi sfidare me! Che sono un personaggio secondario senza nome! Allora sono talmente poco interessato a combatterti che io mi metto qua a raccimolare soldi! Dai! Madonna mia che colpo! Sai cosa? Io resto qui! Forza! Ma dai non... Gli altri colpi non avevano tutto sto... Sto range! Comunque! Doe dai! Ma che palle! Oh! Calmi tutti! Dove sei? Che palle che sto attacco non ha il range che vorrei che avesse! E allora via! Eh sì mi sto per far ammazzare perché sono scemo! No! Allora non è come volevo che finisse volevo colpirlo con una bastonata qua in fronte ma è andata così! Cos'è successo qui? Sei scampata a una guerra senza fine! È stato lui! Capisco! Sei stato abile panda! Davvero? Voglio dire, certo che lo sono stato! Vedete ho usato i miei sensi di super... Panda... Boom, boom! Stavo solo facendo finta di essere addormentato così quando questi brutti ceffi sono arrivati io gli ho fatto un bel... What the... Concentrati! Devi concentrarti! E c'è ragione! Stavamo nel villaggio abbiamo sentito che la gang Cocca ha invaso il lago del Loto! Si sta spargendo la voce dell'arrivo di Tai Lung! Dobbiamo fare qualcosa! Maestro Gru! Perché tu e Po non andate a vedere cosa succede? Wow! Io e maestro Gru! Yuhuuu! Sarà divertente! Lasciami prendere la mia roba! Io e Gru andiamo in missione! Yuhuuu! Ma questo è scemo! Ah... 68% Questo è sicuramente... Il livello che... Non riuscirò mai a completare al 100% Non tanto i tesori... Ma gli avvoltoi! È stato terribile quel pezzo lì! No... Ti giuro! Non ho capito se sono scemo io... O se il gioco non ti fa capire in nessun modo come devi evitare i colpi elettrici!